Ah, quisi, quisi! Cinque! Quattro! Cinque! In questo video andrò a fare un vero allenamento per il back stile old school seguito da un vero bodybuilder Adesso Gidu mi spiegherà tutto il programma Allora faremo un allenamento per l'ampiezza e un allenamento per lo spessore Chiaramente lo spessore è la parte più difficile da raggiungere Mentre faremo questo tipo di allenamento vi spiegherò l'esecuzione anche i nomi delle macchine Allora come primo esercizio faremo la lat machine che adesso ci do una piccola spiegazione Sì, allora faremo la lat machine presa larga Più larga che possiamo faremo cinque serie da venti ripetizioni Quindi saranno quindici ripetizioni più cinque lente E un secondo di trattenuta la discesa Adesso vi faremo il regolo Questa è la quarta Sono quindici più cinque Una la tengo, due la tengo, tre la tengo, quattro la tengo, quinta la tengo Se vedo che il peso è troppo eccessivo salgo e diminuisco il peso Ok? Ok, esatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 Fermo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 14, 15 Allora l'ultima la faremo in un modo diverso, quindi aumentando il peso facciamo 5 ripetizioni si appassa il peso, 5 ripetizioni si appassa il peso, 5 ripetizioni si appassa il peso e le ultime 5 sempre un secondo, un secondo, un secondo, un secondo fino ad arrivare a 5, quindi sono sempre 20 ripetizioni Ok, let's go 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, vai secondo esercizio faremo il pull down metteremo 40 kg per parte ne faremo 15 e sempre 5 con un secondo di stop gli ultimi 5 adesso li faremo vedere e io provvero con il suo stesso carico faccio un tentativo 1 2 3 4 4 5 ok 1 stop 2 stop 3 stop 4 stop 1 up ok questa è la quarta poi andiamo a terminare con la quinta quindi sarebbe facciamo vedere come soffriamo questa qui veramente finisce a far sentire abbiamo già il dorso in pump guardate qua vai vai let's go 1 2 quindici stop vai stop vai 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 ultima ultima stop 1 vai ok vai 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 1 2 3 up quindici ma muovi qui scontri fa tanto incastrarsi bene vai let's go 1 2 qui vai 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 stop ultima stop manca la mia ultima non so neanche se ci riuscirò ultima è la decisiva 1 2 5 ok let's go 1 stop 2 stop up quindici quindici vediamo che troppo pesante tagliamo di una piazza da 20 kg adesso vi farò vedere come viene eseguita vai 1 2 3 4 5 5 2 5 5 4 6 1 2 3 4 5 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 stop 5 6 6 6 7 7 8 7 9 10 8 9 1 2 3 8 9 4 5 8 9 10 1 2 3 4 5 1 questo è esaurimento però io non parto con il 30 tu fai bene i ritmi 2 3 4 5 1 stop dai forza abbiamo finito let's go 2 3 4 1 up squeeze go mi è salita troppa nausea non so niente se riuscirò a terminare tutto termineremo il video no pain ok lui sicuramente io non lo so ho già la nausea faccio qualcosa d'altro sbocco allora ragazzi ultimo esercizio sperando che non sbocco ce lo spiega il guido c'è il cuore c'è il basso su qua sempre per il dorso andiamo tutti a lungare poi andiamo alla distanza gli diamo tutti e poi e poi ah quindi questo non è con la schiena fissa no si allunga si dice con il dorso qua ci puoi toccare e tirano lì vediamo che hai fuori piste uno due nove dieci vai uno due cinque vai uno due vai tre quattro cinque due confermo uno due cinque uno due dai dieci forza uno forza uno quattro non c'ho più di gomiti tre oh fai more ok guys siamo arrivati all'ultima serie dell'ultimo esercizio adesso il guido ci spiegherà come andremo a fare allora saremo l'ultima con settantasette chili dieci ripetizioni in cui calerò il peso quindi diminuere il peso di altri dieci cinque dieci chili vediamo a seconda di quanto l'energia ho cinque ripetizioni e sempre le ultime scale roll pesa le ultime cinque con un stop di un secondo ok let's go uno due nove dieci giù vai uno due cinque vai uno due tre due e e e e e e e e vieni 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 vai 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 ok go andata andata forse manca te manca te uno tocca a me le farà quindici normali e le ultime cinque con il fermo forse uno due tre tre quattro 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 faccio morire questa let's go uno stop uno due stop andata quattro 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 appoggia dai forza le ultime cinque un tw tre dai app bu vieni la vieni la vieni la vieni la sono morto sono morto sono morto Ok guys, penso che il pump sia evidente Sono arrivato proprio al limite Al terzo esercizio stavo per mollare Perché mi è salita la nausea Però l'allenamento l'ho portato a termine Assieme a Guido Ha terminato l'allenamento Quindi sono andato bene Me la sono cavata Se lo dice lui Un po' di builder Niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Dove sono arrivato proprio al limite E se ne volete altri allenamenti Old school con Guido Fatemelo sapere nei commenti E noi ci vediamo al prossimo video Io la mia chiusura la faccio con il flex Vai flexa